bella raga ciao a tutti del comendone veneziano senza giornata delle olimpiadi ragazzi oggi non posso fare forte perché è mattina presto e quindi sveglio tutti ragazzi oggi che famo lancio del giavellotto e kayak k1 individuale annamu il kayak deve essere bello io non lo so disastro nel giavellotto cosa indescrivibile non sono riuscito a fare un lancio normale a parte uno resto tutti fa un vaffanculo un disastro non mi sono qualificato neanche sul kayak e quindi praticamente non ho registrato un cazzo c'è pazzesco pazzesco cioè non ho parole vediamo il medagliere dopo 7 giornate gran bretagna 3 ori 3 argenti 2 bronzi italia 3 ori 3 argenti un bronzo stati uniti 2 ori un argento un bronzo francia un oro tre bronzi cina due argenti grecia portogallo svizzera un oro germania un argento un bronzo canada un argento russia un argento repubblica cieca un bronzo irlanda un bronzo olanda un bronzo turchia un bronzo tutto il resto a zero niente quindi faccio giornata 7 8 insieme a questo punto perché non possono caricare un cazzo che merda mi dispiace ragazzi cosa facciamo prossima facciamo 110 ostacoli e piattaforma 10 metri ragazzi qualificati come primi bene non me l'aspettavo sicuramente voglio una medaglia grandi 100 ostacoli ragazzi un disastro un disastro qualificazione perchè a volte mi lag quindi ho piuttosto rimettere un video che lagga un pochino preferisco evitare sinceramente fatale taggine 10 metri ostacoli purtroppo mi laggano parecchio comunque insomma sono lato ultimo che non era una grande prestazione quindi andiamo a fare le ane dei tutti vai maria partiamo con questo abbastanza buono buono forse buono dai grande vediamo 9 bella 4 però non possiamo rischiare buono 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 grandi grandissimi primi questo è già più duro nooo non benissimo non lo so infatti da merda certo porca forca miseria ma perchè dopo sbaglio ah dio mio esperti eh stiamo là però vado a provarne uno difficile adesso per volta ma non sono convinto per niente non lo so non lo so non lo so raga non sono esperto di tutti purtroppo medio secondi grandi secondo posto perfetto una medaglia arrivata la fancura buono buono Francia prima meno male che non ha vinto la Gran Bretagna o o Stati Uniti però anche la Francia anche la Francia è una squadra che lotta per i medagliere buona 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 questa telecronista spacca i coglioni è grande complimenti a la Francia La Polonia ha vinto, incredibile Vediamo il medaliere ragazzi Italia torna in testa con 3 ori, 4 argenti e 1 bronzo Gran Bretagna seconda con 3 ori, 3 argenti e 3 bronzi Terzo Stati Uniti con 2 ori, 1 argento e 1 bronzo Quarta la Francia con 2 ori e 3 bronzi Quinta la Cina con 3 argenti Grecia 1 oro, Polonia 1 oro, Portogallo 1 oro Svizzera 1 oro, Germania 1 argento e 1 bronzo Canada 1 argento, Russia 1 argento Repubblica cieca 1 bronzo, Irlanda 1 bronzo Olanda 1 bronzo, Nova Zelanda 1 bronzo, Turchia 1 bronzo E il resto niente Ok A questo punto mi faccio anche la giornata 8 La vediamo ai 20 Possiamo fare Lancio del disco e centro metri rana Ragazzi, grandissima qualificazione nel disco Grandissima qualificazione nel disco con 64.07 Veramente una grande misura Grandi raga Maggiate nel nuoto, purtroppo Sesti Per due secondi è qualcosa Pazzenta Quindi si va solo la finale per il lancio del disco Dai ragazzi, andiamo di oro Vai 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 Basso Ah Che certo Ma porca puttana Vai 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 Basso ancora Ma dai ma che palle Ah Dio, ma perché in diretta ma faccio un cazzo Senti Male, male Dai 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 Ancora Ma Dai Giappone vicino, buavi 59 Quarti Dai Dai Marchetto Dai Marchetto Dai Marchetto Dai 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 Giusto Dai 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 Szee Che cazzo Primi E' baffanculo Dai Grandissimo Record Personale Anche questo perfetto Dai Grandissimo Dai Grandissimo 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 Buono Basso Però forse il primo posto c'era lo tetra Anderle Anche questa comunque Ed è medaglia Vogliamo Libero Grandi ragazzi E adesso andiamo a vedere le medagliere Medagliere Italia 4 ori 4 argenti 1 bronzo sempre in testa Gran Bretagna 3 ori 3 argenti 3 bronzi Stati Uniti 2 ori 1 argento 2 bronzi Francia 2 ori 3 bronzi Cina 4 argenti Polonia 2 ori Complimenti alla Polonia Grecia Portogallo Svizzera un oro Germania un argento Austria un argento Canada un argento Russia un argento Repubblica cieca 2 bronzi Irlanda un bronzo Olanda un bronzo Nuova Zelanda un bronzo Turchia un bronzo E il resto Ugaz Raga andata Abbiamo fatto più giornate insieme Perché se no Vengono fuori 50 video Non ce la faccio proprio Purtroppo mi sono qualificato in pochi eventi Ma ragazzi Purtroppo Lag rompe le balle In certi eventi Purtroppo Io mi schiaccio Se mi lagga Perdo il ritmo E c'ero nel sedere Mi dispiace Ho provato anche abbassare i settaggi Usare i dxtori Niente da fare Questo gioco ottimizzato benissimo Senza fraps Ma con fraps E' una merda Purtroppo è così Poi cosa vediamo Da selezione eventi Cosa facciamo Ora Famo Tennis tavolo E piattello Quindi prossima volta Tennis tavolo E piattello Ragazzi alla prossima Ciao